I partiti di trasformeranno l'evidente situazione di essere un unico partito al servizio delle potenti voti, banche e pazzognerie. Quello che è messo è che l'anno cammino del postato mentale, oggi, nel ventiunesimo secolo, la politica ha unito la parola a oggi con quella di Italia Vecchia! Grazie a tutti! Grazie a tutti!